Un caro saluto da Diego Fusaro, il giornalista del Fatto Quotidiano, allievo di Indro Montanelli, Marco Travaglio, ha usato nei giorni scorsi parole davvero assai dure contro la classe politica italiana, dicendo sostanzialmente che è una classe politica indegna, non all'altezza, indecorosa. Sembrano a tutta prima le solite tirate contro la casta che hanno occupato ormai da tempo il centro del dibattito, con toni anche vagamente demagogici e tuttavia non possiamo che essere d'accordo con il giudizio appuntito espresso da Marco Travaglio. La classe politica in Italia è largamente inadeguata e lo è non per un generico populismo che ci porta a criticare i politici in quanto tali, Dio ce ne scampi. La classe politica in Italia è inadeguata perché manca di formazione e di cultura. Basterebbe fare anche un cursorio confronto tra i politici odierni e quelli della Prima Repubblica, di ogni partito e di ogni quadrante della politica, per avere contezza di ciò che stiamo dicendo e per avere contezza anche di quanto abbia ragione Marco Travaglio nella sua tirata, anche se poi non so se egli intende esattamente quello che intendo io, mi sembrava più una tirata estemporanea che non una riflessione approfondita. In ogni caso è vero che dalla Prima Repubblica a oggi si è prodotto un abisso, una parabola catastrofica, direi una metamorfosi kafkiana per certi versi. I politici della Prima Repubblica, che sempre vengono ricordati come corrotti, erano portatori di una visione anche culturale, ricorderete senz'altro Berlinguer o Almirante, Moro o tutti gli altri politici o Craxi della Prima Repubblica. Quelli odierni, che siano Eli Schlein, Meloni, Salvini o scegliete voi quale, o Di Maio, sono ovviamente portatori di una cultura non così approfondita e non così strutturata innegabilmente. E questo è il punctum questionis su cui bisogna ragionare.